Per la prima volta in Piemonte è partita nell'Astigiano una nuova sperimentazione che favorisce il dialogo tra il pronto soccorso dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti e i medici di famiglia, che ora sono collegati per via telematica grazie ad una sorta di filo diretto che consente un preziosissimo scambio di informazioni sui pazienti che accedono ai servizi sanitari d'urgenza e ai medici di base che possono sapere cosa è successo ai loro assistiti. Per ora il nuovo collegamento interessa i medici della zona di Villafranca, Baldichieri, Valfenera e Villanova che seguono 17.591 abitanti e la zona di San Damiano che coinvolge anche i medici attivi su Tigliole, San Martino Alfieri, Cisterna, Revigliasco, Ferrere e Antignano per un totale di 32.000 pazienti. La sperimentazione è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa. Si tratta di un servizio utile per favorire la continuità assistenziale ha sottolineato anche Mario Alfani, presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici ma anche per limitare gli accessi non necessari al pronto soccorso. Abbiamo intrapreso questo percorso con i medici di famiglia per iniziare uno scambio reciproco di informazioni sui pazienti che arrivano in pronto soccorso. Il primo pezzo l'abbiamo fatto, funziona già e abbiamo avuto già dei riscontri e consiste nell'invio della scheda sanitaria del pronto soccorso in automatico al medico di famiglia del paziente che da noi afferisce. Quindi il medico di famiglia viene informato in tempo reale sulla propria mail aziendale dell'afferenza del paziente in pronto soccorso con un estratto del verbale quindi con tutte le informazioni cliniche e terapeutiche del caso. Questo a noi permette di sapere in tempi reali il destino del nostro paziente la storia del nostro paziente viene o ricoverato quindi sappiamo in tempi reali che il paziente in quel momento è ricoverato in un reparto dell'ospedale e questo può consentirci per esempio di interfacciarci di metterci in relazione con i medici che ce l'hanno in quel momento in cura nell'ospedale oppure viene rimandato a casa con una terapia e con degli esami fatti. In qualunque caso per queste informazioni per noi sono molto utili proprio per questa continuità assistenziale che abbiamo con il paziente. Questo è un primo passo ma l'approdo quale si vorrebbe poi fosse? La fantasia non ha limiti su questo quindi cominciamo così poi proseguiremo con uno scambio dai medici di famiglia verso di noi vorremmo coinvolgere anche i pediatri prossimamente e poi vedremo quello che ci viene in mente e cercheremo di fare.